Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa che inizia subito andando a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani abruzzesi poi apriremo uno spazio dedicato ai titoli nazionali e anche purtroppo a quello che è accaduto in Francia con l'attentato a Strasburgo ma come detto andiamo a vedere insieme per primi i titoli regionali partiamo dal centro che in apertura proprio ci ricorda il tema odierno pescarese nell'inferno di Strasburgo studentessa del mantone bloccata per ore nel ristorante vicino al luogo dell'attentato terroristico nei mercatini di Natale della città come detto ci torneremo più avanti andiamo a vedere le altre notizie autostrade il problema non risolto i pedaggi di A24 e A25 forti rincari in arrivo e i sindaci protestano la calmirazione delle tariffe infatti era stata prevista fino al 31 dicembre e poi dal primo di gennaio scatteranno non solo i vecchi rincari ma anche i nuovi andiamo a vedere l'Abruzzo verso il voto movimento 5 stelle di maio due giorni in Abruzzo con Sara Marcozzi a sostegno della sua candidatura e poi il centrodestra con la Lega che dice agli alleati basta l'IT centrodestra ancora alla ricerca del candidato presidente andiamo a vedere poi nella fotonotizia la cronaca scoperto il falso dietologo con centinaia di clienti sequestrato lo studio in via Orazio a pescare qui vedete proprio i finanzieri a lavoro e poi nelle cronache restiamo sempre nel capologo adriatico area di risulta il consiglio vara il progetto ieri eh l'approvazione del progetto per riqualificare l'area di risulta della stazione centrale ma alcune associazioni dei commercianti restano critiche poi ancora eh a Pescara Pineta 70 alberi a rischio crollo saranno tagliati ancora l'albanese in redazione per il Pescara Calcio Castrati portiere che sogna la Serie A. Nel taglio centrale eventi nei locali sarà tolleranza zero nel questore agli organizzatori rispettate le regole saremo intransigenti e sicuramente lo ehm saranno eh le forze dell'ordine ancora di più dopo i fatti eh francesi. Di spalla il calcio Europa amara Inter e Napoli che è mazzata fuori dalla Champions serata non certo positiva ieri con i nerazzurri che pareggiano uno a uno con il PSV e i partenopei che eh perdono uno a zero a Liverpool. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo eh di Giuliano Di Tanna il titolo siamo tutti affaccendati in un percorso vediamo perché rapidamente ehm Di Tanna ci ricorda che secondo un rapporto dell'organizzazione eh eh mondiale della sanità siamo tra le venti nazioni più pigre della terra eppure a sentirci parlare ed ascoltare chi ci parla dal televisore si direbbe il contrario. Dunque questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro adesso ci spostiamo sulla edizione eh teatina del quotidiano d'Abruzzo in apertura alla cronaca i ladri assaltano il negozio di bici furto da cinquantamila euro in un minuto e mezzo malviventi ripresi dalle telecamere. Nel taglio alto ehm quattro morti undici feriti in realtà sembrano tre i morti accertati eh al momento strage a Strasburgo ragazza pescarese Roli eh che incubo. Eh e poi ancora a centropagina eh nella fotonotizia la Honeywell la Tesla la nuova azienda produrrà componenti per auto chiusa la trattativa il sito passa ai cinesi. Eh le altre notizie nelle cronache a Chieti Facebook eh Facebook falso per eh fare colpo e viene condannato. Nome foto falsi su Facebook per conquistare una ragazzina di 16 anni per questo un giovane è stato arrestato. Il comune di Lanciano poi con Valentina Maio eh giunto stile lascio il consiglio e ancora iniziativa a San Salvo scuole a fianco dei bisognosi con la carità. Eh ritroviamo anche il tema delle autostrade a ventiquattro e da venticinque maxi aumento fra venti giorni strada dei parchi scrive al governo si può ancora evitare domani i sindaci saranno in senato per una ennesima eh protesta. Sulla edizione Terramana il titolo di apertura del centro Palazzo Pompetti atti sequestrati polizia giudiziaria nell'ufficio del sindaco d'Alberto per il mancato sgombero eh dei negozi. Andiamo a vedere poi la fotonotizia di centropagina con la partita di ieri sera biancorossi sconfitti due a zero in casa Teramo K.O. troppo forte la capolista eh Pordenone. E poi nelle cronache ehm Teramo lo storico bar Grande Italia accade l'accusa più grave archiviata dal giudice l'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione per i due ex amministratori dello storico bar. E poi l'ospedale Mazzini nuova tecnica operatoria a senologia e le elezioni a Pineto fratelli d'Italia candida Passamonti l'ex questore di Pescara. La Lega dice no. Questo per quanto riguarda anche l'edizione Teramana. Adesso andiamo a vedere quella aquilana. Il titolo di apertura di politica strappo in Forza Italia. In quattro lasciano centrodestra nella bufera. Al comune nasce un nuovo gruppo pro sindaco Biondi. Restiamo all'Aquila. Il concerto di Natale. La poesia in musica di Patti Smith. Eh in canta Avezzano. Questo per quanto riguarda la fotonotizia. E poi all'Aquila l'Eli Soccorso Centro Ricerca e Simulazione. Eh doppio annunci in occasione del ventennale dell'istituzione dell'Eli Soccorso del centodiciotto. A Capristrello il sindaco Ciciotti libero ma fuori dal suo paese. A Sulmona. Pugno in faccia. Calciatore in ospedale. Lasciamo il centro. Andiamo a vedere adesso la prima pagina eh dell'inserto Abruzzo del messaggero. in eh apertura il tema delle aree di risulta. Storico sì da parte del Consiglio Comunale di Pescara che approva dopo trent'anni la riquilificazione dell'ex stazione. Meno parcheggi e assegnazione degli spazi. Parte della maggioranza si sfila in aula. E poi verso il voto in questo box i sindaci Legnini e l'uomo giusto eh insomma dopo l'ufficializzazione praticamente eh della della disponibilità a candidarsi dell'ex vicepresidente del CSM si torna su questo argomento ehm con appunto ehm 162 sindaci ehm che hanno eh firmato affinché ehm Legnini possa essere il candidato del centro sinistra. Andiamo a vedere poi eh a centropagina nella fotonotizia l'emergenza eh dalla capitale settantamila tonnellate di spazzatura il rogo di Roma anche questo poi lo vedremo nei titoli nazionali. I rifiuti in Abruzzo eh dopo l'incendio all'impianto di smaltimento dei rifiuti TMB a Roma sulla salaria la regione Lazio chiederà all'Abruzzo di continuare ad accogliere la spazzatura della capitale. E poi ancora falso eh dietologo l'ambulatorio sotto sequestro ma eh Marco Trita Pepe visitava senza laurea nello studio le cartelle di duecento eh pazienti trovate dal blitz delle fiamme gialle. andiamo a vedere poi di spalla fondi non spesi i GAL valutano azioni legali verso eh la regione i consorsi sono stati istituiti per lo sviluppo rurale e turistico. Nel taglio basso a Silvi ladri messi in fuga a colpi di mazza dopo i roghi la paura dilaga a Silvi per i continui furti una città con inorvi e fior di pelle per un susseguirsi di tentativi di furto che hanno ingenerato panico e conseguente stress nella eh popolazione. L'apice eh nella scorsa notte quando i ladri hanno fatto visita a due case del quartiere Pianacce scoperti sul fatto i malviventi si sono dileguati nelle campagne circostanti dopo essere stati inseguiti da alcuni residenti eh della zona con mazze in mano e c'è chi propone le ronde eh contro questi furti. Andiamo nel taglio alto adesso eh le altre notizie. Il processo il PM accusa così Merkel affondò i conti di carichieti per il calcio bambino morto mentre si allena infermiere finisce a giudizio e la serie B il Delfino rischia grosso eh questo gioco di parole eh con il nome appunto di Fabio Grosso con il pescarese eh del Verona che siede sulla panchina eh scaligera il mai dimenticato ragazzo dell'antistadio ora sfide Biancazzurri di fronte avrà il suocero Giorgio Repetto a capo dell'area tecnica del Delfino. Andiamo a vedere anche eh la prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo il titolo eh di apertura di cronaca minaccia di suicidarsi da Equitalia. Piccolo imprenditore pinetese contesta l'ennesimo pignoramento dopo aver rottamato il suo debito. Andiamo a vedere poi la eh fotonotizia eh masterplan eh finanziati Civitella Pietra Camela e Castelli Borghi Fondi ai più belli. E poi eh sotto la fotografia è Vibratiano il cassiere dell'eroina nove arresti per spaccio nei locali a cavallo con le marche. Andiamo nel eh taglio alto il blitz in municipio per ehm sequestrare le carte relative a Palazzo Pompetti poi beccato dal fruttivendolo nonno pirata in ape in veste settantenne e scappa residenti spaventati corse clandestine di notte lungo eh viale Orsini. Andiamo poi ancora avanti torniamo nel ehm capoluogo a Prutino a Teramo anno nuovo staff nuovo per il sindaco eh d'Alberto a Roseto degli Abruzzi a Dio provincia sbloccati subito eh gli appalti eh poi a Pineto il centrodestra che candida l'ex questore eh Passamonti Passamonti e poi per il marketing territoriale massa critica sulla cucina teramana. Nel taglio basso ci pensa la parrocchia a Colle Ranesco l'albero più bello di tutta Giulianova grazie ai residenti e a Don Franco e poi per il calcio eh di serie C arriva un'altra sconfitta per il teramo. E dunque adesso eh lasciamo le eh prime pagine eh regionali prima di andare a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani facciamo un aggiornamento sulla situazione in Francia andando sui due portali principali informazione italiana cioè eh su eh repubblica.it eh Strasburgo torna il terrore nel cuore d'Europa scrive Repubblica spare al mercatino di Natale tre morti come vi dicevo e dodici feriti questa almeno la conta eh aggiornata a poco fa e caccia all'uomo chiuso l'Europarlamento ferito lieve un giornalista eh radiofonico italiano colpita anche la cattedrale primo bersaglio dell'estremismo islamico in Europa. Poi l'approfondimento eh chi è l'attentatore eh scerif eh sfuggito per tre volte alla polizia in poche ore ancora gli spari il panico e la fuga le immagini riprese da un balcone che ricordano eh forse lo ricorderete anche voi quelle eh del eh Bataclan di Parigi eh e poi spettatori confinati al al palasport cantano eh la marsigliese in risposta appunto agli attentati eh terroristici Francia che in questo periodo è davvero un ehm un eh focolare infiammato. Andiamo eh poi sul Corriere della Sera a Strasburgo spari al mercatino di Natale tre morti e tredici feriti secondo il Corriere eh chi è il killer in fuga con l'approfondimento vedete qui è proprio la fotografia eh dell'uomo eh già con già schedato perché con precedenti per reati comuni come potete leggere dai reati comuni e l'ideologia il terrorismo ibrido tra i feriti un giornalista italiano questo insomma è quello che al momento emerge ho visto due corpi a terra la paura dei clienti sotto i tavoli dei ristoranti e tra questi clienti c'era anche l'europarlamentare eh Bonafè che eh proprio ha scritto eh da sotto il tavolo del ristorante in cui stava eh mangiando descrivendo gli attimi eh di paura e poi invece eh sul Corriere.it c'è un'altra notizia che invece riguarda la visita di Salvini in Israele Hezbollah terroristi queste le parole di Salvini imbarazzo della difesa noi in difficoltà si rischia di mettere in difficoltà anche i soldati italiani in missione ma lasciamo i quotidiani eh online e andiamo invece su quelli eh cartacei per ehm andare a vedere insieme eh i principali titoli eh dei ehm dei giornali italiani il Corriere della Sera spari sulla folla del Natale eh chiaramente il giornale non è aggiornato come il sito internet eh potrete capirlo è andato in stampa ieri sera eh paura nella città simbolo dell'Unione Europea noi nascosti sotto i tavoli ferito un italiano e poi l'approfondimento le indagini dei nostri zero zero sette il piano sventato nel duemila e quei legami con eh l'Italia il servizio antiterrorismo della polizia di prevenzione ha subito attivato i contatti con le autorità francesi per verificare l'esistenza di passaggi o contatti in Italia del terrorista di Strasburgo come lo ricorderete è già accaduto in precedenza. Andiamo su Repubblica è chiaro tutti i giornali si concentrano su quanto accaduto in Francia il terrorismo torna in Europa attacco al Natale di Strasburgo anche perché eh insomma eh questi spari nei mercatini di Natale ci ricordano quanto invece accaduto in eh Germania e che ha colpito eh la nostra regione da vicino con la morte eh della sulmonese ehm eh di Lorenzo. Spari sulla folla almeno quattro eh morti tra i feriti di un italiano e ero deputati barricati in eh Parlamento. Eh andiamo poi ehm a vedere eh le altre eh gli altri titoli, la stampa, anche qui eh la foto che ormai è diventata ehm un simbolo di questa ennesima strage, strage jihadista al mercatino di Strasburgo, braccato e ferito, la lunga caccia al killer di Natale, ci sono stati dei dispari, appunto il killer dovrebbe essere ferito e in fuga vedremo vedremo se le autorità francesi riusciranno a catturarlo nelle prossime ore. Poi a centropagina eh il Libano Scintille Salvini eh Di Maio manovra eh Conte da Juncker con l'ultima carta ehm eh spostare la trattativa a gennaio poi approfondiremo anche questo tema il leghista in visita in Israele e gli Hezbollah sono terroristi, difese grillini, rischi per i nostri soldati, inchiesta sui conti del carroccio, il vice premier Cinque Stelle, Matteo Chiarisca, la replica non ho niente eh da dire e poi dunque c'è eh l'editoriale di Marcello Sorgi e disaccordi gialloverdi se l'alleanza diventa indigeribile. Lasciamo la stampa, andiamo sul fatto eh quotidiano, eh due i titoli principali eh la strage di Natale a Strasburgo, eccola qui, lo sparatore un islamico radicalizzato e ci sarebbe anche un complice e poi invece l'esclusiva eh del ehm del fatto elezioni, soldi illeciti a Padoan eh GF IPM ehm 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 indagare sui finanziamenti alla sua campagna per il voto Moretti poi arrestato per riciclaggio, gli chiese aiuto e gli pagò un evento. I conti pubblici eh le misure e il negoziato deficit Macron sfora il 3% Conte difende almeno il eh 2 in realtà la Francia ha annunciato un piano per rispondere alla protesta dei gile gialli di ehm 10 miliardi di euro più o meno eh probabilmente i conti ne risentiranno, si andrà al 3-4% ma non c'è la eh controprova perché le misure non sono ancora attuate e dunque è un parallelismo un po' forzato quello del fatto quotidiano, comunque il eh Premier Conte ehm andrà a trattare in Europa per ehm diciamo evitare la procedura di infrazione. Andiamo sul sole 24 ore ecco che approfondiamo proprio il tema che vi ho preannunciato, effetto gile gialli, deficit francese al 3-4%, i conti 2019, il Premier francese Filippo in Parlamento, le misure di Macron peseranno la Commissione europea, analizzeremo a primavera il bilancio finale di Parigi, per questo vi dicevo che il parallelismo non è propriamente eh corretto. Andiamo ehm avanti con la manovra italiana. Italia, l'Unione europea, quota 100 sperimentale, accelera la vendita di immobili e immobili. Conte e tria da Juncker peserà il caso francese, il eh CDM e in consiglio dei ministri, le DL semplificazioni, Di Maio alle associazioni di imprese subito con decreto il taglio alle tariffe INAIL, questo l'annuncio del ministro dello sviluppo economico. E poi a centropagina, notizia che riguarda di eh riflesso anche la nostra regione, ambiente paura a Roma per il rogo forse doloso di un impianto dei rifiuti con l'Abruzzo che ehm molto probabilmente sarà chiamato ad accogliere i rifiuti che provengono dalla capitale eh come già sta avvenendo. Il manifesto, il titolo di apertura, l'acre romano. Alla periferia di Roma va a fuoco un impianto di scarica dei rifiuti e nel cielo della capitale si alza una lube tossica, allarme salute, inascoltate le denunce dei cittadini, la procura indaga per disastro colposo, paralisi, spazzatura alle porte, raggi si appella al governo. Nel taglio alto invece, in boscata di Salvini ai soldati italiani, la lettura del quotidiano comunista e sbollate terroristi, in visita in Israele, il ministro spara sulla missione di pace. Andiamo a vedere anche il messaggero, Francia, il ritorno del terrore, il titolo sull'attentato di eh Strasburgo, il testimone oculare, raffiche sulla folla, sembrava un eh film. E poi a centropagina, chiaramente il giornale romano eh pone attenzione a questo tema, maxirogo di rifiuti, allarme a Roma, sospetto sabotaggio con le telecamere che forse coincidenza ma forse no, erano spente da giorni. Andiamo avanti con il tempo anche qui in primo piano il rogo della TMB eh salaria brucia eh dunque l'impianto città avvolta dalla diossina, l'incendio sembra eh doloso, la capitale come la terra dei fuochi, al fiamme alle quattro e trenta del mattino spente solo nel eh pomeriggio. Andiamo a vedere anche avvenire, incendio capitale, il titolo che apre il giornale, rogo doloso tra parentesi e la domanda che si pone all'avvenire nell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti per Roma e rischio di un'emergenza proprio sotto le feste quando oltretutto i rifiuti aumentano, appello della sindaca Raggi al governo affinché dia una mano a Roma. E poi spari e paura a Strasburgo, chiuso l'Europarlamento e il titolo sull'attacco ai mercatini di Natale. Sul giornale eh Islam torna il terrore, attacco al cuore dell'Europa, un radicalizzato spara sulla folla ai mercatini di Strasburgo, ero Parlamento brindato eh un italiano tai feriti. Eh questo dunque ehm diciamo ehm il titolo scelto dal giornale che poi ehm mette in prima pagina anche un editoriale del direttore Alessandro eh Sallusti molto critico eh su come sempre sull'accoglienza e su quanto sta accadendo in eh Francia. Andiamo su Libero. Parigi spende per placare la piazza, Macron cala le braghe, noi tiriamo la cinghia. Questa è l'estrema sintesi eh di Libero. La Francia sforerà i parametri dell'Unione Europea e nessuna Bruxelles multerà. L'Italia invece litiga sui decimali ed è punita ingiustamente, intollerabili due pesi e due misure. Eh diciamo anche qui c'è una piccola forzatura per premere sul tema della trattativa con eh Bruxelles. Andiamo avanti eh con la verità. Sangue a Strasburgo, sede del Parlamento europeo, attentato nel cuore dell'Europa, sparatoia tra le bancarelle eh dei mercatini di Natale. Eh secondo Tajani sarebbero quattro le vittime. Abbiamo accertato che fino adesso sono tre. Caccia ai terroristi che sono eh riusciti a fuggire verso l'autostrada. Tra l'altro proprio in queste in questi minuti ehm si stanno verificando eh proprio i nomi eh delle eh delle vittime. Eh andiamo avanti eh andiamo a vedere il secolo eh d'Italia. Resa totale il titolo. Se un leader si arrende vuol dire che alla fine non ci credeva tanto neanche lui e che allora ha ragione la destra quando dice che Macron è uomo dei poteri forti. Poi eh nel primo piano eh andiamo a vedere no alla fattura elettronica, manifestazione il 12 a Roma, incendio nel cuore di Roma, Movimento 5 Stelle rievoca il complotto e poi finse di essere dell'Isis espulso un cingalese. Sul mattino di Napoli il terrore colpisce il cuore dell'Europa, Strasburgo attentato al mercatino di Natale, killer in fuga schedato come radicalizzato e poi eh la fotonotizia con la Champions. I Reds vincono 1 a 0 e si qualificano con il PSG che beffa il titolo eh del del mattino sulla Champions. Milik si divora un gol e nel recupero il Liverpool passa nel girone eh di ferro. Di spalla vediamo questo e poi passiamo ai titoli eh di sport. la manovra deficit al 2,05 per cento l'ultima offerta di Conte all'Unione Europea. Oggi il vertice ehm vedremo se eh se Conte riuscirà a strappare un sì a Juncker. Andiamo eh sui titoli dei quotidiani sportivi nazionali. Chiaramente la Champions in primo piano. eccola qui sulla gazzetta dello sport. Inter Champions pari da incubo col PSV a casa. Spalletti e ora notte fonda per le italiane in Europa fuori anche il Napoli. Ecco qui infatti ai Napoli sala gol rimpianto. Ancelotti decisiva la differenza reti. Eh per quanto riguarda invece nelle altre partite di oggi Juve l'orologio CR7 in Svizzera per arrivare puntuale al primato. a Berna la partita con lo Young Boys trasmessa sul Rai 1 alle ventuno. Tre punti per il primo posto e poi la Roma a Pezen alle diciotto e cinquantacinque di Francesco. Come terapia c'è soltanto la vittoria col nome della squadra eh proprio ehm che andrà a affrontare i eh giallorossi. Nel taglio basso il futuro rossonero Milan ai big piace Gazzidis. Idee giuste e orgoglio da Filippo a Giovanni Galli a Tassotti ok al nuovo amministratore delegato. Sul corriere dello sport Napoli e Inter scendono in Europa League. Ci rivediamo giovedì. Un gol di Salah con Dan Ancelotti promossi agli ottavi Liverpool e Paris Saint Germain. L'Inter non riesce a battere il PSV e passa il Tottenham 1 a 1 a Barcellona. Poi eh le altre notizie quagliarella. Il Milan ha trovato eh la strada con la Samb e scadenza ehm il eh giovane Bellanova può favorire la trattativa. Mancini di Biaggio eh staffetta d'Europa a giugno Donnarumma chiese Pellegrini e Barella divisi fra Nazionale A ed Under 21. Detti subito bronzo fede quarta e felice per quanto riguarda il nuoto. Andiamo su eh tutto sport. Il titolo principale Ronaldo scrive ai bambini stasera la partita contro lo Young Boys alle ventuno in Svizzera. Il portoghese che vuole trascinare i bianconeri al primo posto nel girone eh della Champions risponde ai piccoli lettori di tutto sport ecco come mangio per essere eh CR7. Nel taglio alto applaudiamo il Napoli. Inter a testa bassa. Addio Champions Spartanopeia e Nerazzurri in Europa League. La squadra di Ancelotti si arrende solo a una prodezza di Allison e al numero ehm di gol segnati da Liverpool. Deludono i Nerazzurri col Pesveto. Ottena Magliottavi grazie al bilancio del doppio scontro diretto. Ci fermiamo adesso per un piccolo break. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo nella nostra regione ne lo facciamo aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Sul centro in primo piano la politica in particolare il centrodestra. Gli effetti dell'attesa Bella Chioma agli alleati basta con le liti. Il capo della Lega si dichiara preoccupato. Così rischiamo di non vincere tra questa sera o ehm domani il nome del eh candidato con Marsilio in eh pole position dopo l'indicazione di eh Giorgia Meloni a cui ehm con Fratelli d'Italia aspettava appunto di indicare il candidato eh presidente. Le possibilità delle civiche pagano lancia il salvagente all'ex deputato di Stefano dopo eh la chiusura di qualche settimana fa proprio ai nostri microfoni con cui Pagano aveva detto in qualche maniera che di Stefano era uscito dal perimetro del centrodestra ci sarebbe stata nella giornata di ieri una riapertura a patto che eh vi riassumo un po' eh l'articolo eh si eh in qualche maniera di Stefano rinunci al progetto con cui eh si è candidato alla presidenza eh della regione il progetto delle sue liste e civiche rientri nell'alveo del centrodestra. Nel in basso poi il retroscena dell'ultima ora invito a cena con Marsilio e Biondi così il candidato in pectore cerca di ricomporre la rottura con Martino di Forza Italia sul caso eh comune dell'Aquila dopo eh l'allontanamento eh dell'assessore in quota eh Forza Italia eh da parte del sindaco eh Biondi eh vedremo poi nelle pagine dell'Aquila di approfondire anche questi temi. Andiamo avanti sempre nel primo piano sempre verso le regionali arriva il vice premier Di Maio due giorni per girare eh l'Abruzzo e il Movimento Cinque Stelle cala l'asso per lanciare la candidatura a presidente di Sara Marcozzi il tema la chiave sarà il lavoro Di Maio sarà venerdì alle diciannove a Villa Filiani a Pineto poi in serata Blizza Pescara allo spettacolo di Grillo l'ultima tappa sabato alle sedici in piazza a Lanciano previsti numerosi incontri sul territorio salvo impegni improvvisi di governo che possono anche far modificare in extremis il programma come sempre accade in questi casi e poi il centro sinistra domenica all'auditorium Petruzzi di Pescara in Abruzzo nasce più Europa a sostegno di eh Legnini l'appuntamento alle nove e trenta eh di domenica all'auditorium Petruzzi a Pescara. Andiamo a vedere anche eh la pagina Abruzzo eh sul messaggero eccola qui l'Abruzzo alle urne i sindaci eh Legnini e l'uomo giusto per la coalizione. Alessandrini ha sempre eh dice ha sempre lavorato per il bene eh comune di lorito a qualità eccellenti di Marco un politico di valori questi alcuni eh dei nomi importanti del centro eh sinistra che eh amministra alcuni comuni eh della regione. I primi cittadini avevano preparato un manifesto per convincere l'ex presidente del CSM a a candidarsi e poi eh l'altro fronte Marsile oggi si riunisce il tavolo del eh centrodestra vediamo che cosa ne uscirà. Ancora altra notizia importante Maxi Rogo nella discarica di Roma tonnellate di rifiuti verso eh l'Abruzzo dopo il rogo al TMB di eh di Salaria scusate eh insomma la capitale chiede aiuto e la nostra regione che già lo sta facendo potrebbe accogliere ulteriori eh settantamila tonnellate all'anno. Il presidente eh vicario della regione Giovanni Lolli ieri è quasi caduto dalle nuvole non abbiamo ancora ricevuto nessuna richiesta rispetto alla possibilità di accogliere eh ulteriori rifiuti. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città eh si parla invece di autostrade eh strada dei parchi che chiede lo stop al caro pedaggi. La concessionaria invita il governo ad approvare il PEF il piano economico e finanziario atteso da mesi e che fermerebbe i rincari ehm il PEF si traduce in un doppio vantaggio per gli utenti con un'autostrada ancora più sicura e con una politica degli incrementi dei pedaggi maggiormente contenuti nel tempo. Di spalla poi la cronaca controlli del Nassi in aziende e vinicole sequestrati 89 mila litri di vino e nel taglio basso eh la guardia di finanza sequestra lo studio di un nutrizionista abusivo. Il falso professionista era stato già beccato due volte ma continuava la sua attività cambiando sede di eh lavoro. Eh prima di andare a vedere il servizio andiamo a vedere eh questa eh notizia anche ehm sul sul centro. Eccola qui. Vi metto la doppia pagina dedicata proprio a questo argomento. La finanza sequestra lo studio curava le diete per i clienti ma non aveva alcun titolo. Trita Pepe era stato già denunciato. Centinaia di persone si rivolgevano a lui. Poi attenti ai danni da terapie errate. Errate il nutrizionista Piselli lancia l'allarme. Le conseguenze possono essere eh gravissime. E ancora eh solo eh medici e biologi nutrizionisti possono prescrivere le cure adatte per le ricette. Serve la laurea. Ecco cosa dice eh la legge. Andiamo a vedere anche eh il eh messaggero nelle eh pagine eh di ehm di Pescara. Eccolo qui il eh l'articolo che riguarda proprio questo blitz della guardia di finanza. Sigilia lo studio del falso eh dietologo eh sequestrate le attrezzature. Già nel mirino in altre due occasioni aveva girato i primi controlli. Cambiando indirizzo scattano anche gli accertamenti eh fiscali. Al setaggio le a setaccio le cartelle cliniche di cinquecento eh persone. Vediamo insieme il servizio. Dietologo e nutrizionista abusivo nel mirino della guardia di finanza del comando provinciale di Pescara che ha sequestrato il suo studio nel quartiere Porta Nuova. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Pescara nei confronti di un uomo residente in città. Il sedicente professionista era già stato attenzionato dalle fiamme gialle che nel gennaio duemila diciotto avevano proceduto ad una perquisizione di uno studio di piazza Garibaldi dove erano state sottoposte a sequestro le attrezzature utilizzate e documentazione sanitaria riguardante cinquecento pazienti. L'uomo nonostante tutto nel marzo scorso nel corso di un accesso a fini fiscali della finanza fu ancora sorpreso ad effettuare consulti medici con i finanzieri che procedettero al sequestro anche dei locali oltre che delle attrezzature utilizzate delle cartelle di circa duecento clienti. Il nutrizionista negando i suoi clienti ogni addebito aveva ripreso così la sua attività spostando il suo studio in un'altra zona del quartiere Porta Nuova dove i finanzieri hanno così ulteriormente proseguito gli accertamenti assumendo informazioni da ulteriori clienti all'esito delle attività investigative e dell'accertata reiterazione dell'esercizio abusivo dell'attività. La procura della Repubblica di Pescara ha inoltrato richiesta di sequestro preventivo accolto dal GIP del capoluogo adriatico. Il provvedimento giudiziario è stato ora eseguito dai militari che all'arrivo nei locali hanno colto in fraganza l'uomo intento a visitare i pazienti e così sottoposto a sequestro i nuovi locali e le attrezzature utilizzate dal professionista abusivo. Ovviamente nei confronti dell'uomo seguiranno anche gli sviluppi dell'intervento a fini fiscali per la verifica del trattamento dei ricavi conseguiti dall'attività illecita. Adesso ci occupiamo invece restando ancora a Pescara del tema che riguarda l'area di risulta. Ieri il via libera del Consiglio Comunale sia al Parco e al Palaeventi ha approvato il piano per riqualificare i 13 ettari con un'area verde, un edificio culturale e 2.000 posti auto nei silos. L'esito del voto nella maggioranza un no e 4 assenti per quanto riguarda questo progetto che viene criticato. Quel progetto è un blef, non si farà mai, l'opposizione contesta la delibera approvata, la maggioranza ribatte e una svolta per la città. Sul piedi di guerra anche i commercianti aderenti a Confcommercio che dice un clamoroso errore. Marina Dolci poi commenta siamo stati ignorati. Questo sul centro andiamo sul messaggero che apre proprio le pagine di Pescara con questo tema. Alessandrini porta a casa l'area di risulta con 16 voti contro 12 e molte assenze strategiche tra i banchi della maggioranza. Ha approvato il progetto di riqualificazione l'accordo con Confesercenti e organizzazioni dell'artigianato contestato da Confcommercio. Il nodo è la gestione dei parcheggi. 30 anni fa a gennaio del 1988 il passaggio dell'ultimo treno sul vecchio tracciato ferroviario da cui deriva proprio l'area di risulta. Il sindaco esulta, le cose si cambiano amministrando, dura l'opposizione per voi, sarà una vittoria di Pirro. Prima di andare a vedere questo servizio vediamo e completiamo questa pagina con il taglio basso, movida blindata con i limiti agli accessi ai plani di deflusso. Tavolo tecnico con gli organizzatori degli spettacoli, rafforzate le misure di safety and security per lo show di J-AX a Capodanno. Ma noi andiamo a vedere invece il servizio che riguarda proprio l'approvazione del progetto di riqualificazione dell'area di risulta. E' stata approvata in Consiglio Comunale a Pescara la delibera che pone le basi per una variazione del progetto di riqualificazione delle aree di risulta secondo gli accordi presi con i rappresentanti di categoria. Questo, quello di oggi, è solo un passaggio, il primo passaggio del progetto sull'area di risulta che interesserà il Consiglio Comunale. Adesso la parola passa ai cittadini e crediamo sia la fase più importante perché tutti i cittadini potranno presentare osservazioni, critiche, contributi al progetto che è stato adottato dal Consiglio Comunale. Poi si tornerà di nuovo in aula per valutare le osservazioni. Io prevedo che arriveranno a centinaia, visto il livello di dissenso che c'è in città su questo progetto e solo successivamente all'approvazione di questo secondo atto sarà possibile avviare le procedure di gara. Ma i tempi sono tali per cui questa amministrazione che andrà a casa il 26 maggio non sarà nelle condizioni di poter completare questo ITER. Quindi io voglio tranquillizzare i cittadini che questo progetto non sarà mai realizzato. Siamo sicuri che nella fase delle osservazioni i cittadini esprimeranno numerosi le loro richieste di modifica. Siamo sicuri che arriveranno centinaia di osservazioni che dimostreranno alla maggioranza di centrosinistra che ostinatamente ha voluto continuare a mantenere in piedi un progetto che non ha le gambe per camminare. Siamo sicuri appunto che la città darà il proprio contributo e che questo progetto fortunatamente non vedrà mai la luce. Andiamo avanti con il messaggero e chiudiamo la lettura delle pagine di Pescara proprio sul quotidiano romano. Così Merker affondò la Carichieti, la dura requisitoria del PM, Rosangela Di Stefano, che chiede la condanna degli ultimi imputati per il mega crack industriale. Per bancarotta fraudolenta e documentale rischiano da due a quattro anni Marino Alessandrini ed altri quattro ex manager. Una gestione scriteriata a base di uno dei più gravi deficit fallimentari tra i più rilevanti per il territorio, mentre gli operai non prendevano più gli stipendi. Con 450 mila euro fu rinnovato il parco auto dei dirigenti. Queste alcune delle accuse dei passaggi del PM. Poi le altre notizie. Gli spacciatori Bevi, banda sgominata d'allarma nell'operazione a Montesilvano, gospel, teatro e classica, via gli spettacoli natalizi e ancora in fuga con l'auto rubata è stato arrestato. Passiamo al centro e completiamo anche la lettura delle pagine di Pescarà sul quotidiano d'Abruzzo. Ricoverata 12enne investita da un'auto. Siamo a Spoltore. L'adolescente guarirà in un mese una ragazza di 18 anni messa sotto in via e in Audi, ma non è grave per fortuna. Oggi l'addio di cappelle a Pietro alle 15 i funerali dello studente d'ingegneria non si ferma all'alte con l'auto rubata e viene catturato in seguimento sulla Tiburtina con un... Nelle regole sulla sicurezza dopo il caso di Ancona, eventi nei locali pugno di ferro del questore, Misiti si rivolge agli organizzatori. Rispettate le norme, saremo intransigenti e controlleremo gli spray urticanti agli ingressi. Andiamo avanti. La sentenza è prevista il 14 di gennaio, ma abbiamo già visto scandalo Merker, chieste cinque condanne. La bancarotta fraudolenta dell'azienda di Rimorchi di Tocco, il commercialista pescarese Marino Alessandrini, rischia quattro anni. Poi ancora gli esperti a confronto sul cyberbullismo. Al Misticoni, il primo degli incontri organizzati dal centro con il Comitato regionale per le comunicazioni. Andiamo in Pineta, restiamo a Pescara. Saranno abbattuti 70 alberi lungo i sentieri, contrassegnati da punti blu, sono vittime dei funghi o delle falde acquifere. Il primo risultato del monitoraggio effettuato dagli esperti su 627 piante. Nelle pagine di Montesilvano, droga, indagine dei carabinieri, scoperta la banda dei giovani spacciatori. Del gruppo fa parte un 18enne indagato per violenza sessuale e già arrestato. Cinque perquisizioni, un ragazzo è finito ai domiciliari. E poi distretto sanitario si parte il 21 di dicembre. Il manager Asla annuncia la data dell'inaugurazione, ma Pettinari denuncia struttura già vecchia. Altra pagina che riguarda Montesilvano, l'attrazione delle feste in via Leopardi. Ecco la casa di Babbo Natale che conquista i bambini. Adornata da migliaia di lucine è stata allestita fin da ottobre dall'odonto tecnico Iezzi e dal gestore delle pizzerie Spada. Poi a Città Sant'Angelo l'albero di Natale scatena la lite. L'opposizione marina trascurata, il sindaco ribatte la bete. C'è. Nella pagina successiva a Francavilla proteste per i blackout da pioggia. Alcune contrade lunedì sono rimaste al buio per ore. L'Enel dice abbiamo individuato subito il guasto. E poi nella pagina successiva a Popoli due carrozzine donate all'ospedale dai familiari di Verna. Oggi cerimonia con i genitori dell'infermiera morta nel 2016. Il primo passo per la nascita di un centro del risveglio. Ancora premiato il corso di alta sartoria di Formoda appenne riconoscimento alla formazione dedicata agli studenti. Andiamo nelle pagine di Chieti. Restiamo ancora sul quotidiano Il Centro. Assalto da professionisti con un colpo allo scalo. Ladri in fuga con 50 mila euro di bici. Svaliggiato il negozio Bike Pro in un minuto e mezzo. Spariti i pezzi più costosi. La vetrina oscurata con bidoni dei rifiuti. E qui vedete proprio alcuni momenti, alcuni passaggi del furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Nel taglio basso profilo falso su Facebook scatta la condanna. Giovane usa foto e nome finti per fare colpo su una ragazza. Pena di 4 mesi per sostituzione di persona. Nella pagina successiva ad Atessa il sito Onewell passa di mano ai cinesi. La Baumark ex E-Mark riapre lo stabilimento dei turbocompressori per produrre componenti in acciaio per il settore auto. E ancora Atessa secondo turno saltato e la Sevel si ferma ancora per i capricci tra virgolette della ex Bluetech. Nel taglio basso pugile pugnalato chiesti 7 anni per il cognato. Il PM formula la richiesta di condanna per il tentato omicidio di Urbano. Domani la sentenza avvasto. Andiamo sul messaggero, andiamo a vedere anche le pagine di Chieti. Supercinema, tante le idee per rilanciare la storica sala di Martino. Abbiamo il progetto esecutivo ma mancano 300 mila euro per poter partire. Servono un nuovo palcoscenico, i lavori sulla sicurezza e l'adeguamento degli impianti. Raid vandalico all'Harris arrestato di Pietrantonio per quanto riguarda la cronaca. È lo stesso che ha piccoli incendi nelle strade, stavolta in carcere. Poi andiamo avanti. La Onewell rilevata dalla Baumark. Ieri fumata bianca la riconversione dei 162 lavoratori parte a febbraio con la società leader nel campo della siderurgia. Nelle prossime settimane si definiranno gli aspetti tecnici e burocratici. A metà gennaio ci sarà l'incontro in regione. E poi le dimissioni della Valentina Maio dal Consiglio Comunale. La Maio si rimette per motivi personali e poi ancora scoperta di scarica di pneumatici in un corrisponde del fiume Sangro nel Lancianese. Andiamo adesso avanti. Sul quotidiano Il Centro, le pagine di Teramo, l'inchiesta con la polizia giudiziaria in comune in primo piano, Palazzo Pompetti sequestrate, le carte. La procura ipotizza anche l'omissione dei dati d'ufficio. Per ora a carico di ignoti si indaga sui gazebo installati per una festa. La ricostruzione lumaca con gli sfollati che convocano gli enti. Assemblea sabato ha collaterrato con sindaco e commissario dell'Ater. Nel taglio basso cancro al seno, nuova tecnica operatoria e innovativa procedura al Mazzini che è capofila di uno studio internazionale. Poi proseguiamo con le notizie da Teramo. Grande Italia, cade l'accusa più grave, archiviata l'ipotesi di bancarotta distrattiva per i due ex amministratori del locale, i soldi usati per pagare i dipendenti. E poi minaccia di uccidersi negli uffici di Equitalia. Imprenditore si chiude in una stanza e protesta per una cartella da 30 mila euro. Nel taglio basso resta un filo nel tendine dopo l'intervento. Donna di Martinsicuro non riesce a guarire, deve operarsi di nuovo. Ora chiede i danni alla ASL. Nella pagina successiva, Fratelli d'Italia, Sceglie Passamonti, la Lega non ci sta, Pineto, l'ex questore di Pescara, candidato sindaco, ma i salviniani insorgono, non ci sono consultati. Morra è una candidatura autorevole e prestigiosa. Il carroccio punta invece su Di Pietrantonio. Invece nel taglio alto a Silvi, in strada con i bastoni per cacciare i ladri, alcuni residenti di Pianaccia avevano visto delle autosospette, segnalati furti anche in altre zone. Non c'è pace per la città di Silvi sotto il punto di vista della sicurezza. Ma andiamo sulla città per le altre notizie dal Terramano. Ripartiamo da quanto accaduto ieri ad Equitalia. Minaccia il suicidio all'Agenzia delle Entrate. Piccolo imprenditore di Lady Pineto si piazza in uno dei box con la moglie e inizia a dare in escandescenza. I motivi? Sosteneva di aver rottamato le cartelle, destinto il debito con l'erario, ma di aver comunque subito il pignoramento delle fatture e dei pagamenti. Andiamo avanti. Blizzi in municipio per Palazzo Pompetti. Abbiamo già visto le carte acquisite, i tre filoni dell'indagine che si muove tra il mancato rispetto dell'ordinanza, i lavori di sicurezza e l'aggravamento del Aedes, che sono le rilevazioni per quanto riguarda i danni. E poi, anno nuovo, staff nuovo per D'Alberto. In arrivo la novina di Montani e capo di gabinetto e altre due figure tecniche per completare la squadra. Eccole qui. Andiamo avanti. Poste centrali in tilt per un blackout, un guasto elettrico a causa dei disservizi. E ancora in provincia. Fondi per i borghi più belli del Terramano, Castelli, Civitella e Pietracamela ricevono 140 mila euro a testa grazie al capitolo del masterplan. L'operazione boxer della polizia di Ascoli Piceno, sgominata una gang dell'eroina tra Abruzzo e Marche. Banda di Italo Tunisini riforniva il mercato dei locali notturni sulla riviera a Terramano, il presunto cassiere della banda. Lasciamo la città, torniamo sul quotidiano il centro per andare a vedere le notizie dall'Aquilano. In quattro lasciano Forza Italia per Biondi, Colantoni, Colonna, Della Pelle e Silveri insieme a Scimia, di benvenuto presente, nel nuovo gruppo insieme per l'Aquila. E dunque queste le problematiche all'interno del centrodestra è la risposta dei consiglieri a Martino che aveva sparato a zero contro il sindaco prima e dopo l'uscita dell'assessore di Stefano. Iorio, Vicini e PD, solidarietà all'assessore di Stefano e ancora cambiando argomento nel taglio basso i giudici, profitti illeciti sugli alloggi, appalto ex Campomizzi, le motivazioni della condanna dei costruttori Baratelli e Marinelli. Pagina successiva, montagne di neve, da domani si scia a Roccaraso, inizia la stagione turistica in Abruzzo, la Remogna avvia gli impianti di risalita e in quota si cena nelle Baite per quanto riguarda il turismo. Bando comunale svolta a Colle Rotonde, quattro imprenditori di Scanno gestiranno la seggiovia nel taglio basso. Cicciotti libero ma fuori dal paese, inchiesta sugli appalti di Veto di Dimora per il sindaco dimissionario di Capistrello a Tagliacozzo, appalti illeciti, ex sindaco a giudizio, condannato un architetto. Prima di passare allo sport andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero. In apertura Forza Italia il gruppo si disintegra, basta ingerenza e fiducia a Biondi. Clamorosa rottura dei consiglieri comunali nasce insieme per l'Aquila con Cimi e Colonna, operazione contro il commissario Martino, rinunciano alle aspirazioni per l'Aquila Anitas. Il sindaco tiro al piccione sulla sede staccata del Maxi e l'altro articolo su questa pagina di spalla, strada dei parchi a Viselmit senza il PEF, nuovi aumenti. Nella pagina successiva trasporti scatta la rivoluzione elettrica, presentate il primo autobus della regione a zero emissioni, mezzi simili saranno gli unici ammessi al transito nel centro. Entro il 2019 il parco macchine verrà ampliato di 10 unità, nel frattempo AMA pensa a un'app e al GPS per evitare le attese. Poi la vertenza verde acqua, spettro licenziamenti per i lavoratori. Le altre notizie, rinasce il giardino alpino, il progetto grazie alla fondazione Carispa che tornerà a splendere la creazione in quota di Vincenzo Rivera. Rocca di Cambio, rinasce l'abbazia di Santa Lucia e per lo sci alpino Giulia Di Francesco in Coppa Europa. Nella pagina successiva, appalti a Tagliacozzo, 10 a giudizio, l'ex primo cittadino di Marco Testa dovrà rispondere di concorso in turbata libertà degli incanti e concussione. L'architetto Carlo Tellone, che aveva chiesto il rito abbreviato, condannato a due anni e 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Capistrello, intanto il sindaco Ciciotti torna libero ma con divieto di dimora nel paese. E così arriviamo alle pagine di Sport, restando sempre sul messaggero. All'Abruzzo Sport si apre, parlando di Serie B, grosso tranello per il Pescara. Il ragazzo dell'antistadion, Beniamino dei Pescaresi, sfida con il Verona, il Delfino. Di fronte avrà il suocero Repetto, numero uno dell'area tecnica, Biancazzurra. E poi l'idea per l'attacco, ecco un messias per Pilon. Questi insomma i primi rumors di mercato. Nel taglio basso invece troviamo il basket, il verbo di Sherrod per gli Sharks e crescere. Finalmente abbiamo capito come vincere in trasferta, restando uniti nei momenti difficili. Sul quotidiano Il Centro andiamo a vedere invece l'articolo, la pagina che riguarda il Pescara. Il guardiano dei pali, il campetto in Albania, Pescara e la nazionale, castrati e insegue il sogno. Il portiere, iniziai a parare davanti casa i tiri di mio fratello, papà ama il calcio. Spero che un giorno sia orgoglioso di me. Nel 2012 un provino con il Verona, ma non fu tesserato. Lunedì il 21enne di Durazzo tornerà da rivale al Bentegodi. Poi nel taglio basso per l'attacco c'è l'idea Pucciarelli. Sondaggio per il 27enne del Chievo, Pilon recupera Antonucci. Canote intanto migliora. E passiamo così alla Serie C con la sedicesima giornata. Il Teramo è fragile, la discesa continua. Il Pordenone sbaglia un rigore, poi fa due gol, uno in fuorigioco. Il diavolo stravolto dalle assenze ci prova senza fortuna. Finisce 0-2 la partita di ieri sera al Bonolis. I prossimi rivali invece, Tonfanovis-Pesaro finita 0-0. Il commento del tecnico Maurizzi. Anche gli episodi sono stati contro di noi. Il tecnico ammette che il nostro piano ha funzionato solo per pochi minuti. E qua trovate anche le partite del girone B. Andiamo a vedere poi sul messaggero il Teramo. Capolista troppo forte il Teramo a testa bassa. La corazzata Pordenone che affonda i biancorossi che incappano nella quarta sconfitta degli ultimi sette impegni di campionato. Il raddoppio in evidente fuorigioco viene sottolineato in questo articolo di Ania Cantagalli. Andiamo a vedere anche la città nelle pagine di Sport come affronta il tema della partita di ieri. Il Pordenone passa, il Teramo cola a picco. Reti nella prima fiazione di Gavazzi e Candellone. Il diavolo ci prova ma non è mai realmente pericoloso. Tre punti nelle ultime sette gare dalla vittoria contro il Ravenna. La formazione di Maurizio ha messo insieme solo tre punti nelle sette gare disputate con tre pareggi e ben quattro sconfitte. Situazione critica dal punto di vista della classifica. Andiamo ad ascoltare il tecnico Agenore Maurizzi. Una partita che con il calcio di rigore parato da Lewandowski sembrava poter aprire scenari totalmente diversi. All'undicesimo sembrava potersi disegnare tutta un'altra gara. Dal punto di vista emotivo forse potremmo trarre vantaggio da quella situazione di gioco. Però poi è difficile giocare quando non si vince un duello individuale. E quindi abbiamo preso un gol stupidissimo. Forse abbiamo pagato la partita di Vicenza ma comunque abbiamo giocato contro la grande squadra. C'è da essere consapevoli che loro sono un'ottima squadra e noi non abbiamo vinto un duello individuale. E questo non puoi portare via la partita senza vincere duelli individuali. È la prima volta che la vediamo così. Forse è insoddisfatto della sua squadra o sbagliamo? No, sono insoddisfatto non della squadra perché poi alla fine globalmente abbiamo creato tanto. Non abbiamo fatto una bruttissima partita. Però quando non si è cattivi da un punto di vista emotivo, da un punto di vista caratteriale. Ma un po' per caratteristiche noi non ce l'abbiamo. E questo è un dato di fatto. E quindi sono abbastanza arrabbiato perché quei giocatori che oggi sono stati chiamati in causa comunque da un punto di vista emotivo devono dare qualcosa in più. Ma non parlo da un punto di vista tecnico, ma senza polemica. Abbiamo già toccato in forte emergenza e abbiamo pagato molto. Un misero al di là delle assenze di questa sera e del fatto che mancano ancora quattro partite, però onestamente sta facendo un po' il conto alla rovescia per il mercato di riparazione in gennaio. No, vabbè, adesso pensiamo alle partite. Pensiamo a sabato, poi il mercato di riparazione è fatto per quelle squadre che sono state costruite male. E il Teramo è una di queste? Ma non lo so. Adesso vediamo cosa succede in queste tre partite. Quattro. A proposito di sabato, conta di recuperare qualcuno di rivoluzione? Eh sì, speriamo di recuperare qualcuno perché siamo veramente in piena emergenza. E insomma, emergenza di persone, di giocatori, ma anche emergenza di classifica per il Teramo. Andiamo in Serie D, oggi si gioca. E allora, restando sul messaggero, il Francavilla Iesi vuole essere Corsaro. Racchini, c'è bisogno di più concretezza e il successo arriverà, sono le parole del tecnico. Il Pineto contro l'Agnonese a caccia di punti per i play-off. Non ci sarà della quercia, ma lo potrà confermare la squadra di domenica scorsa. Poi il patron d'Alessandro, salvezza e stadio pieno per quanto riguarda l'Avezzano. Andiamo sul centro per continuare a parlare proprio dell'Avezzano. Inizia il nuovo corso della squadra marsicana, entusiasmo dei tifosi e la presentazione in comune in attesa di rinforzi. Giampaolo sfida il campo basso, le abruzzesi del Girone F oggi in campo e chiaramente noi seguiremo tutto con Diretta Stadio e poi questa sera con l'Abruzzo del pallone. Ma completiamo la lettura del centro. Pineto Agnonese, Marianeschi, la cura dei dettagli, aiuta a volare. Poi Lavastese condannata alla riscossa, all'Aragona c'è il fanalino di coda Castelfidardo. Il Giulianova nella Tana del Montegiorgio, via Ferrante preso da Antonio dall'Angolana. Il Francavilla a Iesi, cruz recupera dentro Montagnoli e Spataro. Il San Nicolò notaresco spavaldo a Cesena, Cudini, dice, è un'occasione storica. L'eccellenza al giro di Boa, Chieti senza mezze misure, l'Ally Show, appena due pareggi per i nero-verdi rigenerati da Lucarelli. Il San Buceto in vetta, grazie ai gol. 15 del Bomber. Nella pagina successiva, il basket con la festa regionale Domenica Pescara. La FIP Abruzzo premia Ricci e Filoni. Anche Petruccia la premiazione dell'eccellenza del Movimento in passerella per Azzetti di Tommaso e del Paggio. È tutto per questo appuntamento con Mattino 6 che torna domani alle ore 8. La nostra informazione è oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.